Il riconfermato sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, ha presentato la nuova giunta a frutto anche di riscontri elettorali chiari e di competenze. Una squadra composta da cinque assessori, tra le riconferme troviamo Paolo Giorgini, il più votato, alla quale vanno bilancio, personale, verde pubblico, partecipate al mercato ittico. A Marco Di Carlo vanno turismo, manifestazioni, polizia locale, via vita e trasporti. Mentre a Lidia Albani riconfermate tutte le passate deleghe, politiche sociali, politiche della casa, pari opportunità, politiche dell'infanzia, protezione civile, politiche giovanili, gemellaggi, servizi, cimiteriali e pubblica istruzione. Tra le new entry Matteo Francioni, ex presidente del Consiglio Comunale, ora nominato vice sindaco con importanti deleghe, lavori pubblici, manutenzioni, edilizia scolastica e grandi opere pubbliche strategiche. E infine a Nausicaa Cameli sono andate politiche comunitarie e fondi PNRR, Ufficio Europa, Cultura, Ambiente, Green Economy, rapporti con le associazioni culturali e di quartiere. Innanzitutto in pochissimo tempo siamo riusciti secondo me a regalare un governo della città che potrà dare per esperienza amministrativa e per voglia di rimettersi in gioco delle risposte immediate della cittadinanza. Era quello che avevamo promesso in campagna elettorale chiedendo a tutti un voto importante che è arrivato e quindi noi non abbiamo perso tempo e siamo, ripeto, riusciti in pochissimo tempo a dare delle risposte concrete. Oggi penso di avere una delle giunte più forti che si siano viste nel corso degli ultimi anni, alcuni giorni. Il sindaco Costantini ha però deciso di tenere a sé tre deleghe, commercio, urbanistica e demanio. La riconferma di Marco Di Carlo, ha precisato il sindaco, è stata decisa anche per dare continuità al lavoro di promozione turistica fatta in questi anni. Sì, l'assessore Di Carlo, che ci tengo a specificare, è un assessore da me scelto, Giuliano Turismo, nonostante i tre consiglieri comunali, non aveva chiesto il terzo assessore. È una mia decisione perché in continuità con il passato Marco Di Carlo saprà dare delle risposte su turismo, eventi e manifestazioni. Mi sembrava veramente sprecato tenerlo tra i banchi della maggioranza. Marco Di Carlo ha già annunciato che la settimana prossima uscirà il calendario degli eventi estivi perché Giulianova nel corso di questi anni è tornata ad essere il punto di riferimento dell'intera regione Abruzzo per quanto riguarda eventi e manifestazioni. Al consigliere Federico Montebello la delega allo sport e agli impianti sportivi. Nella prima seduta consigliare in programma il 5 luglio alle ore 18 in piazza Buozzi sarà eletto il presidente del Consiglio Comunale. La maggioranza ha già indicato l'ex assessore Roberto Mastrilli il secondo più votato e nella stessa seduta si procederà anche alle surroghe dei 5 consiglieri nominati assessori.